da pesaro a valle foglia decolla l'anno di capitale della cultura 6 eventi in 90 ore la vitrifrigo arena supera il tour de force a fano personal trainer trovato morto nel suo letto indaga la polizia montellabate rinvenuto ordigno bellico della seconda guerra mondiale nel centro di pesaro da oggi rifiuti nei cassonetti intelligenti lunedì 22 gennaio ben ritrovati al nostro telegiornale questa è rossini news siamo in questa prima edizione che poi ritroverete anche alle ore 20 e 30 allora entra nel vivo il 2024 di pesaro capitale della cultura sabato vi abbiamo mostrato in diretta l'emozionante cerimonia inaugurale alla vitrifrigo arena alla presenza del presidente della repubblica sergio mattarella cerimonia che ripercorriamo in questo primo servizio 20 giugno 2024 una data cerchiata in rosso da mesi sul calendario della città di pesaro della provincia di pesaro e urbino un'attesa che ha rispettato le aspettative cerimonia inaugurale di pesaro capitale della cultura 2024 alla vitrifrigo arena davanti a 8.000 spettatori 2.000 studenti e tutta la comunità riunita dai 50 rappresentanti dei comuni della provincia convolti nel progetto 50 per 50 capitali al quadrato ma soprattutto dalla presenza del capo dello stato sergio mattarella accompagnato dagli applausi del pubblico pesarese tanti verranno a pesaro da ogni parte d'italia d'europa da altri luoghi per incontrarvi per conoscere il vostro patrimonio storico artistico è una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini se la cultura è sapere creatività emozione passione sentimento ebbene è il presupposto della nostra libertà inclusa quella di stare insieme pesaro ricca di retaggi culturali è il progetto che coinvolge 50 comuni e la provincia ammbrerà ancor di più le opportunità di questo anno straordinario fare cultura significa creare opere dell'ingegno il fatto che si continua a sognare ha scritto l'antropologo roger bassid conferma che la creazione resta da completare per pesaro inizia quindi oggi un sogno operoso un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete buon anno da capitale italiana della cultura per il 2024 parole di solennità istituzionale quelle con le quali il presidente della repubblica sergio mattarella ha lodato la missione culturale di pesaro parole che sono state l'apice di una mattinata alla vitri frigo arena condotta dalla travolgente ironia e simpatia di un maestro del palcoscenico come paolo bonolis se la tecnologia deve essere un importante via d'accesso alla conoscenza e alla cultura vi prego tutti voi di guidare i ragazzi a farne un uso della tecnologia e non un abuso e che la conoscenza attraverso la tecnologia sia una strada semmai ma non una scorciatoia io vi ringrazio per questo che mi avete concesso di poter dire e naturalmente riflettori puntati sugli amministratori locali che hanno avuto l'ambizione e la fede di credere in questa missione di pesaro capitale della cultura che oggi prende ufficialmente il via il sindaco matteo ricci e il vice sindaco daniele vimini sì io penso che noi dobbiamo essere orgogliosamente gente di provincia perché significa stare con i piedi per terra sapere che bisogna camminare e correre più forti degli altri per arrivare ma mai provinciali perché noi dobbiamo volare alto dobbiamo avere l'ambizione di dare una speranza a questo territorio con l'orgoglio di pensare e di chi pensa che questa provincia questa regione possa essere uno dei posti migliori del paese un sogno nato dieci anni fa quando abbiamo deciso di ristrutturare l'economia della nostra città dopo la grande crisi economica puntando su cultura e bellezza e oggi essere capitale italiana della cultura è un grande obiettivo raggiunto ma anche un grande trampolino di lancio perché vogliamo davvero modificare il nostro sistema economico a favore delle nuove generazioni e del futuro economico del territorio stesso pubblico numerosissimo 8 mila persone ma anche un'educazione una capacità di ascolto anche dei temi profondi che sono passati per questa giornata veramente veramente e come avere l'idea appunto che diciamo non siamo come città come provincia come regione capitale della cultura evidentemente a caso perché c'è una cultura diciamo anche del sapere vivere momenti come questi che sono però fondamentali perché è la spinta più forte che potremmo anche pretendere per avere un anno come quello che si aspetta davanti ricco di iniziative ma necessitante anche di farlo capire capire conoscere il resto d'italia il capo dello stato ma anche la rappresentanza del governo meloni presente oggi il ministro gennaro san giuliano che ha ricordato anche un aneddoto che ha portato a questa capitale della cultura quando da giornalista dialogò con Matteo Ricci in tempi non sospetti sulla possibilità di realizzare quello che oggi è realtà fra i desideri e i saperi si forma una nuova città che vi siete posti come obiettivo di immaginare la città che ancora non c'è e che potrete da oggi iniziare a costruire approfittando di questo anno che vi darà l'opportunità di disegnare il futuro che volete e che vi appartiene come destino culturale viva Pesaro 2024 viva le Marche e viva l'Italia giornata memorabile è importante il lavoro che è stato riconosciuto all'amministrazione comunale alla città di Pesaro e alla provincia di Pesaro Albino un gioco di squadra importante da cui prendere non solo spunto esempio ma su cui costruire un gioco di squadra nelle Marche e nel centro Italia per ridare splendore a questi territori che hanno sofferto tantissimo a causa del sisma, degli alluvioni e che però intorno alla cultura, intorno alla dinamicità delle popolazioni e delle comunità locali credo che possano ritrovare non solo uno stimolo ma anche quel giusto risultato e quegli giusti obiettivi che poi ridanno anche la capacità di competere e di attrarre Questo 20 gennaio è cominciato con i versi della poetessa Mariangela Gualtieri E' continuato con il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e poi un pomeriggio che è andato avanti con la musica di Max Gazzè dell'Orchestra Casa Dei e in serata con lo spettacolo di Rosa Chemico i primi assaggi di un programma di Pesaro 2024 che è coordinato da Agostino Ritano e Silvano Straccini E' stata una cerimonia memorabile soprattutto per la partecipazione popolare che abbiamo avuto e per l'onore della presenza del Presidente della Repubblica questa grande attenzione che l'istituzione del Presidente ha suscitato nel connubio della cultura è stata veramente una miscela di straordinario interesse abbiamo avuto quindi questo calore e presentato il nostro piano per questi 300 giorni di attività più di 400 artisti da 35 paesi del mondo E' un inizio, credo che sia stato un buon inizio quindi l'anno che verrà sarà sicuramente adeguato a un inizio come questo E a proposito di questo argomento vi ricordiamo che questa sera alle 21.40 dedicheremo uno speciale televisivo dedicato a questo importante evento con tutte le interviste Non solo Pesaro inizia infatti oggi la settimana da Capitale per Ballefoglia apri pista del progetto 50x50 Capitali al Quadrato è stato una settimana che avrà il suo fulcro nel nuovo Teatro Santi di Bottega che sabato ha avuto il gratificante onore del taglio del nastro proprio del capo dello Stato Mattarella Vediamo Se ospitare un capo dello Stato a Pesaro è già di per sé un onore eccezionale vederlo inaugurare un luogo della cultura nella piccola frazione di Bottega diventa scrivere una pagina indelebile nella storia di una comunità Quella di Ballefoglia che sabato scorso ha bruciato tutti sul tempo ospitando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mezz'ora prima del suo arrivo alla Vitri Frigo Arena Nell'occasione Mattarella ha tagliato il nastro del nuovissimo Teatro Giovanni Santi che arricchisce la cultura di un territorio diventando quartier generale della prima settimana del progetto 50x50 Capitali al Quadrato in programma a Ballefoglia dal 22 al 28 gennaio Emozioni forti per i tanti bambini delle scuole di Ballefoglia che hanno potuto stringere la mano al Presidente accompagnato nell'occasione dal Ministro San Giuliano e dalle principali istituzioni civili e religiose del territorio E' per noi un'occasione veramente importante e straordinaria è stato un impegno enorme da tutti i punti di vista ed è anche per me un orgoglio Io ho avuto come Vice Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente Mattarella e poi Mattarella ha firmato il decreto istitutivo della città di Ballefoglia quindi siamo qui in Piazza Piola Torre e via Pier Santi Mattarella è un polo di contrasto alle mafie, l'educazione alla legalità l'aula magna di questa scuola intitolata Carlo Alberto della Chiesa quindi ringraziamo il Presidente della Repubblica per questo regalo E' stato anche un impegno, uno stimolo perché finire i lavori di quest'opera innovativa perché è un luogo per i giovani, per la musica, per il cinema, per il teatro classico e quindi diciamo che oggi è una bella giornata Io credo che sia importante questa visita oggi di Mattarella e questa deviazione che ha fatto qui a Ballefoglia e poi andiamo già a Pesaro è un importante per tutta la nostra provincia e poi devo dire, e qui lo ribadisco io ringrazio l'amministrazione di Pesaro perché molte volte sento delle polemiche non dimentichiamoci che è Pesaro, città, che ha vinto capitale della cultura ed è stata un'intuizione dell'amministrazione di Pesaro di fare e di coinvolgere i 50 comuni della nostra provincia Il sold out di Claudio Baglioni giovedì scorso, la cerimonia con Mattarella sabato mattina seguita dai concerti di Max Gazze orchestra Casa Dei e Rosa Chemical fino a Notte Fonda e infine WL Milano-Armani la domenica pomeriggio un tour de force mai visto per la Vitre Frigo Arena che ha chiamato la gestione del Palasport ad un super lavoro andato a buon fine come ci racconta il presidente di Aspes Luca Pieri, sentiamolo 6 eventi in 92 ore sono tanti e soprattutto eventi di altissima qualità perché si è partiti giovedì sera con il concerto di Baglioni per poi passare all'apertura dell'anno di capitale della cultura con il presidente Mattarella e poi a seguire i tre eventi successivi quindi Max Gazze, Casa Dei e Rosa Chemical non finisce, è finita questa cosa ma subito la notte abbiamo dovuto approntare lo smantellamento insomma delle strutture che erano state predisposte per l'apertura dell'anno della capitale per poi poter montare e poter ottenere la partita di basket della WL che si è tenuta la domenica quindi grandissimo sforzo però tutti gli ingranaggi hanno funzionato alla perfezione centinaia e centinaia di persone che sono state coordinate dal nostro personale dai dipendenti di Aspes che in maniera molto professionale al di sopra addirittura di qualsiasi aspettativa è riuscita a coordinare questa miriade di persone che dall'esterno hanno contribuito a realizzare gli eventi su questi vanno citate due strutture che con noi corroborano tutto l'anno che sono Seven per quanto riguarda la logistica e la sicurezza con centinaia di persone che sono state impegnate in questa tour de force e Sandy Light che come sempre è una garanzia una professionalità che nasce a Pesaro che da Pesaro va in tutta Europa, in tutta Italia, in tutto il mondo a portare la qualità dell'audio, del suono e delle luci rispetto agli eventi stessi che hanno fatto sì che si riuscisse in così poco tempo a tenere gli eventi come dicevo, eventi importanti a cui si aggiunge rispetto alla normalità l'eccezionalità della presenza del Presidente della Repubblica che aumenta di tanto le procedure di sicurezza e di protocollo che in qualche modo così hanno contribuito a mantenere la suspensa anche rispetto al rispetto dei tempi che in qualche modo siamo stati tenuti a garantire quindi grazie, grazie, grazie alla nostra struttura ai nostri dipendenti e a quanti con noi hanno collaborato a far sì che tutto andasse nel migliore dei modi e proprio oggi la Vitri Frigo Arena ha aggiunto un altro grande concerto nel palinsesto del 2024 quello del popolare cantautore italiano Tananai che si esibirà a Pesaro il 29 novembre all'interno di un nuovo tour autunnale nei grandi palasport italiani Ed ora passiamo alla cronaca dolore e sconcerto a Fano per la morte ad appena 30 anni di Riccardo Shao personal trainer e insegnante di arti marziali che gestiva una palestra in via Fanella i familiari lo hanno trovato senza vita ieri mattina nel letto della sua abitazione in via dell'Abbazia Shao aveva origini irachene ed era un cultore del benessere fisico come mostrato dalle tante foto postate sulle sue pagine social sul corpo del trentenne verrà disposta l'autopsia indaga la polizia di Fano per fare chiarezza sulle cause del decesso Ed ora cambiamo completamente argomento torniamo a Pesaro dove oggi è partita la nuova modalità di raccolta differenziata attraverso le isole ecologiche intelligenti Lunedì 22 gennaio parte oggi ufficialmente il nuovo metodo di conferimento di rifiuti nella zona traffico limitato del centro storico di Pesaro quello attraverso le ecoisole informatizzati i cosiddetti cassonetti intelligenti ne sono stati disposti 17 in queste settimane in tutta la ZTL del centro storico 17 che si vanno ad aggiungere ai 6 precedentemente installati lo scorso anno per quella che fu una sperimentazione due settimane di coesistenza fra il vecchio metodo di conferimento rifiuti quello della raccolta con i sacchetti porta a porta e poi dal 5 di febbraio soltanto il conferimento attraverso le ecoisole alle quali si accederà attraverso la carta smeraldo che in questi giorni viene consegnata a residenti e utenze commerciali nell'ufficio di via Gavardini 10 in questi giorni abbiamo iniziato la consegna delle tessere a partire dal giovedì scorso abbiamo consegnato circa 3.200 tessere che equivalgono a circa 1.700 utenze diamo la possibilità di ritirare una coppia di tessere fisiche e una tessera virtuale che dà la possibilità di accedere alla raccolta tramite l'NFC del cellulare le isole attualmente sono sbloccate sono libere quindi il conferimento è subordinato solamente al pedale dal 5 di febbraio verranno attivate tramite la tessera diamo la possibilità a tutti i cittadini di poter conferire liberamente in qualsiasi orario e oltretutto sicuramente non vedremo aumentiamo sicuramente il decoro per il centro storico perché non vedremo più magari i sacchetti a terra la notte quindi un grande investimento sia da parte della nostra azienda insieme al comune, all'amministrazione comunale quindi una grande iniziativa che comunque ci porterà ad aumentare quello che speriamo diciamo aumentare il decoro della città soprattutto in un anno come Pesaro capitale della cultura 2024 un appuntamento in cui vogliamo essere pronti da entrambe diciamo le parti sia Marche Multiservizi che l'amministrazione Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato ieri pomeriggio in via Redi Puglia, strada di campagna nel comune di Monte Labate Carabinieri e vigili del fuoco hanno transennato la zona e sono stati allertati gli artificieri per programmare la rimozione e il conseguente brillamento si tratta di un proiettile d'artiglieria di 40 cm di lunghezza e 15 cm di diametro ad accorgersi della presenza dell'ordigno è stato il conducente di un'automobile che transitava nella zona al momento non è stata predisposta un'evacuazione dei residenti della zona l'ordigno bellico che vi abbiamo appena mostrato è stato ritrovato proprio il 21 gennaio data dell'ottantesimo anniversario dello scoppio di Montecchio ieri il comune di Vallefoglia e l'associazione combattenti ereduci hanno commemorato la sconvolgente esplosione di una polveriera tedesca che il 21 gennaio 1944 sconvolse l'allora frazione del comune di Sant'Angelo in Lizzola causando la morte di 35 persone e oltre 100 feriti domani 23 gennaio si terranno invece ad Urbani alle celebrazioni del 180esimo anniversario del bombardamento della città commemorazione nella sede del comune con interventi e mostre dalle 9 fino alle 12.42 quando risuonerà la sirena a ricordare il terribile momento bellico seguirà alle ore 18 la messa solenne in concattedrale celebrata dal vescovo Sandro Salvucci martedì 30 gennaio alle 18.15 l'auditorium di Palazzo Montani Antalli di Pesaro ospiterà la conferenza alle donne del Ducato organizzata dall'associazione ad Astra di Angela Cecini che condurrà l'incontro prendendo le mosse dal volume dalla corte al chiostro vita romanzata di Elisabetta Feltria del giornalista e scrittore Tiziano Mancini ed ora vi segnaliamo che mercoledì 24 gennaio alle ore 18 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sarà a Fano per presentare pane e politica il libro che racconta il suo viaggio nella provincia italiana per immaginare il futuro della sinistra l'appuntamento è nella sala della Concordia nella residenza comunale di via San Francesco 76 insieme a Ricci sarà presente anche Walter Beltroni autore della prefazione del libro e l'esponente del partito democratico fanese Renato Claudio Minardi cambiamo argomento parliamo di cinema e del primo Chuck per Mr. Hope un nuovo film di produzione pesarese girato nel nostro territorio che andiamo a scoprire in questo prossimo servizio è una Pesaro immersa in una distopica dimensione parallela quella che sta costruendo Mr. Hope short film diretto dal giovane regista pesarese Tommaso D'Andrea e prodotto da LG Studios e Mirko Bannini nei giorni scorsi si è girato il primo Chuck nel set di Della Chiara Work Spaces una delle location d'ambientazione assieme agli spazi di Villa Meuccia Severi Baia Flaminia, zona industriale di Via Toscana e Schnell di Colli al Metauro Le sensazioni sono molto positive perché come dicevamo gli attori si sono rivelati all'altezza c'è molta coesione anche con i ragazzi della troupe tra il direttore della fotografia e operatori c'è una grande sintonia si scherza, si ride e quando dobbiamo arrivare a girare la scena sul set sono tutti molto preparati e tutti molto seri si è installato anche un bel rapporto di amicizia e quindi non la vediamo proprio come un rapporto lavorativo ma quasi come amici Il personaggio di Samantha è un personaggio forte io la vedo come l'eroina del suo tempo vive in questo sistema che a lei non piace e quindi con grande coraggio e con grande determinazione vuole cercare la verità vuole cercare la propria verità perché appunto la menzogna, la bugia, l'illusione sono temi che insomma non le piacciono e quindi Samantha spero che possa essere un personaggio che possa fare in modo che le persone si possano riconoscere in lei in qualche modo e quindi che anche il pubblico che la guarda che l'ascolta possa empatizzare con lei e magari trovare il coraggio di fare una piccola azione nel quotidiano ed essere più coraggiosi magari per se stessi e per gli altri Jennifer rappresenta proprio la persona media presente nel sistema quella che non si fa troppe domande quella che alleggerisce sempre un po' forse per paura fa orecchie da mercante perché magari ha paura di scoprire troppo la intimorisce un'eventuale scoperta oppure semplicemente perché certe cose non le vede non si pone minimamente il problema il progetto Mr. Hope per me almeno significa riuscire finalmente a portare in scena il genere di Spotico, il 1984 di Orwell che per me è il mio libro preferito in assoluto e quindi è un piccolo sogno che insomma riesco a portarmi a casa e Tommy il personaggio che interpreto è il compagno di Samantha, la protagonista è il capo dei militari che è completamente fedele al sistema cosa che Samantha invece come si scopre insomma da subito è completamente dubbiosa cerca la verità a tutti i costi invece io sono molto molto attaccato a quello che insomma che viene professato da Mr. Hope e ho questo bivio insomma questa ardua scelta tra Samantha e Mr. Hope da fare e come tutti i lunedì c'è anche lo spazio per lo sport vediamo nessuna sorpresa dopo l'expload di Milano Fra WL Armani alla Vitri Frigo Arena finisce come da copione preventivabile troppo superiore la squadra di Messina troppo avviluppata nei suoi limiti attuali la squadra bianco-rossa ancora priva di Banford e con l'innesto ritardato di una settimana di McDuffie Milano passa con un netto 65-85 frutto di un vantaggio costruito a inizio ripresa e allargatosi in maniera decisiva nel terzo parziale la WL dopo un buon approccio finisce per perdere riferimenti e misure di contrasto agli avversari una crisi di risultati che ora si spera di invertire nella prossima gara con Brindisi decisiva in lotta a salvezza dalla Serie A alla Serie B di basket l'Ital Service Loreto perde lo scontro al vertice di Senigallia cadendo all'overtime la Golden Gas vince 79-75 e mantiene la vetta in coppia con Matelica nel calcio buon pareggio per la Vispesoro che al Benelli impatta 0-0 con la carrerese quarta forza del torneo allunga 8 la sua striscia di risultati utili consecutivi e resta quanto mai viva nella lotta in bagarre di zona play-out nel calcio 5 è stato invece un venerdì da Leoni per l'Ital Service che gioca una gara strepitosa battendo al Palamegabox i campioni d'Italia in carica della Felli Eboli 4-1 che manda invisibilio il nutrito pubblico peserese Ital Service che va sotto nel punteggio dopo appena 29 secondi di partita ma regisce in maniera ruggente rimontando e dilagando prima con l'1-1 di Miguelen con cui si va all'intervallo poi nel secondo tempo il trionfo firmato dalle marcature di Moabz di Oliveira prima della ciliegina finale del portiere Putano nella pallavolo si interrompe il buon momento della Megabox che torna senza punti dalla trasferta sul campo della Washford Green Pinerolo dopo una maratona di 4-7 nei quali la squadra di pistola ha sfiorato il tie-break ma ha ceduto di fronte al servizio dell'avversario capaci di ben 9 ace Vallefoglia cade di misura nel primo set vince il secondo e perde il match in un prolungato quarto set chiuso sul 32-30 in favore delle piemontesi palla ovale amara invece per la Fiorini Pesaro Rugby che chiude il girone d'andata perdendo in casa 17-10 contro i Veneti del Tarvisium in un match combattuto in cui Kiwi muovono la classifica conquistando un punto di bonus difensivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti